Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel canale. È un po' che non faccio dei video che non ci sentiamo e mi sono arrivato un sacco di cose e volevo assolutamente farvele vedere, in quanto questo saccone qua è un mio acquisto che ho fatto, non so se vi ricordate, ve lo lascio qui, da qualche parte o qui o qui, non me lo ricordo mai, l'altro video per quanto riguarda questo che ho fatto, che era la Beautiful Box. Ebbene sì, ora mi è arrivata la My Beauty Box, da un po' e l'ho lasciata qui perché devo farvi il video. Allora, buttiamo via questa e dentro intanto già vince su tutto perché c'è una pochetta enorme, questa è stracomoda, guardate rispetto alla mia faccia quanto è grande. E aprendola abbiamo innanzitutto un fascicoletto qua con scritto My Beauty Box, ovviamente c'è il loro sito. Questo per chi non lo sapesse, il My Beauty Box è un sito che fa delle box di tucchi, di make up, di qualsiasi cosa. E ci sono i vari abbonamenti. Beauty Box costa 14€ mi sembra. E ci sono tanti tanti prodotti all'interno che vengono descritti qua, ma non voglio vedere perché se no mi spoilero invece voglio farvi vedere la mia reazione. Quando si ritrova vi dico il prezzo, quindi qua ci sono scritti, vi dico il prezzo di ogni prodottino. Questa qui, non so cos'è, maschera purificante nutriente bio, di bellezza bio Montalto, pelle secche sensibile e linea terra. Bene, allora, innanzitutto mi hanno dato una maschera, cioè dentro questa box, scusatemi le unghie ma devo farmele tipo dopo. Infatti ho tolto la ricostruzione, cioè il semi permanente perché mi si sono rotte delle unghie, allora dopo mi vado a fare la ricostruzione. E questa qui è la maschera bio che proverò assolutamente, fatemi sapere sotto in un commento se volete un video recensione o semplicemente che ve ne parli in un video. Questa qui veniva 1,80€ ovviamente, questo è un semi campioncino. Poi, wow, cos'è questo? Non so se conoscete questa marca, io la conosco, è la Dorn, è la marca Adorn. Ed è soprattutto per i capelli, quella un po' stile anni 80, direi. E questo è un trattamento ristrutturante intensivo anticrespo, fiale magiche, olio a caldo. Mmm, come è strutturata questa cosa? 5 fiale, fatte così, ed è un olio per capelli. Non vedo l'ora di provarlo. Questo costava 6€, quindi dai, comunque anche a forbo. Abbiamo delle Mentos, mmm, questa è utile, buona, al... E alla menta, mi viene da dire, questa marca qui. 2,29€. Uh, uno smaltino Debbie, di questo colore qua, non ce l'ho questo colore, quindi buono dai. Questa è della linea Neon, 3,50€. Poi ho un'altra cosa di Debbie, questa è il Color French Manicure Pen, utile questo. Anche questo mi mancava perché l'ho finita, la mia del French, quindi buono dai. E questa costava 4,50€. 4,50€ questa, 3,50€ lo smalto, perché ho visto dopo che c'erano due segni sotto la marca Debbie. Un gloss, wow, questo di chi è? Un gloss mesauda, bellissimo, guardate che è pieno di glitterini questo. Cari, andiamo a sbocciarlo. Uh, beh dai, è anche abbastanza pigmentato, eh, per essere un gloss. E uno di quei gloss trasparentati, vedete che però rilascia diverso colore. Carino, questo qui di mesauda invece viene 6€, quindi dai. Poi abbiamo Bottega Verde, adoro questa marca, Mascara Volume Extra Black, yes, mascara. Questo qui viene 13,99€. Adesso andiamo a vederlo insieme perché sono troppo curiosa. Questi andranno tutti nei... Pensavate veramente che non mi potesse cadere qualcosa in questo video? No. Questo qui è il mascarino e sono, vediamo, 8ml. Wow, questo è uno scovolino veramente lungo. Fine anche. Bello, bello. Questi saranno tutti i prodotti da testare. Ultimo cosino, intanto ci rimane anche la bag strautile, è di... Defa Cosmetics. Wow, la prima cosa di Defa Cosmetics. Graphite Eye Pencil. 9,90€. Quindi la cosa più costosa qui dentro è quello di Bottega Verde. Questa viene 9,90€. Bel, bianca, grande che mi serviva bianca. Bel tratto, burrosa, ottima per l'interno dell'occhio. Ci gusta, ci gusta, bella. Ragazzi, questi erano tutti i prodotti che io ho trovato dentro la mia My Beauty Box. E questo era del mese di marzo, mi sembra. Io veramente sono stata felice di averla provata. Sicuramente mi è piaciuta di più di Beautiful Box. Quindi so già che sicuramente la riprenderò. E inoltre volevo provare un altro sito che è Lip Monthly. Che costa anche poco ed era anche in offerta. Quindi più avanti magari farò un abbonamento. E veramente è una cosa molto utile. Ci sono le varie scelte. E potete disdire l'abbonamento appena anche avete pagato. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un po' il link in su. Se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi qua sotto per i futuri video. E anche perché vi ricordo che al raggiungimento dei 3.000 iscritti ci sarà un mega giveaway con dei prodottini molto carini secondo me. Perché sì, li ho già messi da parte. Sì, ho già registrato il video. Ma uscirà solo il raggiungimento dei 3.000 iscritti. Quindi iscrivetevi al canale. Vi mando tanti baci. Al prossimo video. Ciao!